Ci sono delle spese che sembrano specchi, seppur ingenti, secondo noi sono efficienti. Una, per esempio, è ogni anno andiamo tutti quanti in un ritiro aziendale di U.S. completamente spesato, in posti molto belli, esotici. La spesa è notevole, generalmente si attesta su 4.500 euro a persona, quindi non è una cosa da poco. Riteniamo che il valore che c'è di ulteriore spirito di squadra, conoscere i colleghi, dei bei ricordi che si formano tutti insieme, alla fine valgano quell'investimento e ci consentano di rendere i posti di lavoro ancora migliori.